Quest'oggi la Cina è questo. 40 anni fa tutto ciò era fuori dalla realtà. Negli anni 70 la Cina era classificata come terzo mondo. Alla morte del grande timoniere, Mao Zedong, il paese era un disastro. Il grande balzo in avanti di Mao era stato uno scivolone all'indietro, la rivoluzione culturale degli anni 60, un'involuzione sociale che aveva portato soltanto fame, povertà e malattie. Nel 78 la metropolitana di Pechino non esisteva, oggi conta 21 linee, mentre il nuovo aeroporto di Pechino da Shing, aperto nel 2019, è il più grande terminal del mondo. La povertà assoluta in Cina è passata dal 97 al 3% nell'arco di questi decenni. Tutto questo, inutile dirlo, non senza critiche con tanti lati oscuri. Disciplina, rispetto delle autorità, pochi diritti e uno stipendio medio piuttosto basso, di 800 euro, a fronte di elevata produttività individuale e collettiva. Tutto questo è il fattore che incide maggiormente sulla crescita della Cina. Quando però Deng Xiaoping salì al potere nel 1978, questi fattori non esistevano. Deng Xiaoping, togliendo di mezzo la vecchia visione maoista, fu l'artefice della modernizzazione cinese. Se oggi la Cina è quel che è, lo deve in parte a Deng Xiaoping e al suo vederci lungo. Per capire veramente il miracolo economico cinese, dobbiamo però tornare in uno dei momenti più bui della Cina, gli anni 70. Il video di oggi mi è stato richiesto da un mecenate Patreon, nonché amico, Umberto. Devo dire che è stato uno dei più difficili da sintetizzare. Per approfondire vi lascio in bibliografia due libri nei quali c'è scritto tutto nel dettaglio. Io per tempistico ho dovuto tagliare fuori diverse cose. Partiamo. Con le politiche catastrofiche della rivoluzione culturale e con un Mao sempre più vecchio, la Cina cominciò a guardare con interesse non più all'est europeo e in particolare al sistema economico dell'Unione Sovietica, con la cui dirigenza era ormai in rutta di collisione, ma ai suoi vicini più prossimi. La Corea del Sud, Singapore, Taiwan e Hong Kong. Tutti paesi che seguivano strategie di sviluppo opposte a quelle del Partito Comunista cinese, orientate a libero mercato e in costante crescita. Sempre più paesi stavano perdendo fiducia nelle promesse che il socialismo aveva prospettato al termine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo anni di inefficienza, il Maoismo aveva infatti lasciato un'eredità pesante. Disoccupazione, scarsità di cibo, condizioni igienico-sanitarie assenti e povertà generalizzata. Il Partito Comunista si trovò dinnanzi a due opzioni. Continuare quanto fatto da Mao e rafforzare l'economia pianificata di stampo socialista, oppure puntare su un modello completamente diverso. All'inizio, con il successore prediletto di Mao, Hua Guofeng, prevalse la prima opzione. Guofeng basava il suo operato sul principio che bisognasse seguire ciecamente le teorie del defunto Mao, indipendentemente che fossero giuste o sbagliate. Molti però volevano troncare con gli errori del passato. La voce di questa maggioranza silenziosa fu raccolta da Deng Xiaoping, che da tempo si era guadagnato la stima di molti nel Partito Comunista, specie dopo la scomparsa di Mao. Deng irruppe sulla scena politica cinese con una visione pragmatica, realista, diremmo noi. Un progetto di riforma e apertura incentrato in una prima fase sul principio delle quattro modernizzazioni. Un progetto di 15 anni nel quale trasformare in branche efficienti l'agricoltura, l'industria, le scienze e la difesa nazionale. L'imperativo di Deng contrastava con quello di Guo Feng ed era molto chiaro. Sviluppo. Lo sviluppo avrebbe portato la Cina a ricchezza e potere. Diventare ricchi era cosa gloriosa, andava ripetendo Deng Xiaoping. Si fece così strada nella mentalità socialista cinese l'idea che per stabilizzare la nazione fosse necessario liberalizzare le produzioni per aumentarle in quantità, distribuire maggiormente ricchezza ai cittadini con stipendi più elevati, normalizzare la logica meritocratica aziendale e soprattutto la libertà di poter avere personale alle proprie dipendenze. Tutti i temi che sotto Mao erano diventati un vero e proprio tabù. La filosofia di Deng era che i cinesi potevano pure arricchirsi. L'importante era non mettere in discussione il predominio del partito. La rivoluzione culturale di Mao aveva inoltre messo in discussione le dottrine di Confucio. A differenza di Guo Feng, Deng martellò proprio su questo aspetto. Dal suo punto di vista, molti dei principi del confucianesimo, di armonia, coesione sociale, impegno e disciplina come anche il rispetto delle gerarchie sociali e familiari, erano tutti principi che ben si prestavano ai progetti politici ed economici della nuova Cina. In tal senso chi gestisce il potere al quale va deferenza e rispetto in osservanza della gerarchia poteva essere presentato come il vero tutore dei valori tradizionali cinesi che dovevano essere preservati. Non importa di che colore è il gatto, quello che cattura il topo è un buon gatto, avrebbe sempre affermato Deng. Insomma, il fine giustificava i mezzi. E per raggiungere questi fini Deng scelse consigliere e funzionari che ne condividessero l'enfasi sullo sviluppo economico e che fossero disposti a sperimentare nuove idee e approcci. Hua Guofeng, con sempre meno consensi anche a causa di purghe interne al partito, fu messo da parte definitivamente alla fine del 1979. Deng non fece altro che trasferire su di sé i poteri. Pur non screditando mai pubblicamente l'immagine di Mao, il nuovo leader, de facto del PCC, era convinto che la Cina maoista, isolandosi, avesse commesso un errore madornale. Con un'economia forte la Cina si sarebbe in effetti fatta valere in campo internazionale, specialmente su questioni che da tempo pendevano in agenda, come la riunificazione con Taiwan e Hong Kong. Per diventare una tigre asiatica la Cina ebbe bisogno di una prima spinta, e questa spinta gliela offrirono gli americani. Oggi può sembrare strano, ma a partire dal 1960 l'Occidente si era infatti posto il problema di come trarre vantaggio dalle tensioni tra cinesi e sovietici. Vi ricordo il vecchio video che ho fatto sulla crisi sino-sovietica quasi un anno fa. Dopo diversi anni di contatti informali e colloqui dietro le quinte, compresa la visita segreta del segretario di Stato Henry Kissinger nel 1971, la Cina aprì formalmente le relazioni con gli americani. Lo storico viaggio di Nixon, immortalato dalla stretta di mano con il primo ministro Zhu Enlai, da quella con Mao e con il buffet al ristorante, fu un tripudio di pragmatismo. Per l'amministrazione Nixon, trasformare la Cina da minaccia comunista quasi alleata servì come salvacondotto per cancellare il disastro del Vietnam. Ma non solo, serviva anche ad allontanare la Cina dall'Unione Sovietica. Gli americani erano convinti che, senza Mao e con l'influenza occidentale, la Cina col tempo si sarebbe evoluta in una società più liberale, più incline ai dogmi di Washington, proprio come nel caso della Corea del Sud. A Deng bastò semplicemente avvicinarsi agli Stati Uniti con un bel sorrisone. In una visita trionfale in America, indossando un cappello da cowboy, Deng, impressionato dai progressi tecnologici americani, fece leva sulla psicologia da un lato per dimostrare ai cinesi più restì la compatibilità tra capitalismo statunitense e socialismo cinese, dall'altra per far buon viso a cattivo gioco con l'amministrazione Carter. Nel 1980, quando la Cina continentale sostituì Taiwan a livello di approvazione internazionale, il presidente della Banca Mondiale Robert McNamara, favorì guarda caso l'arrivo di prestiti aiuti a sostegno dell'economia cinese. Lo stesso fece il Giappone negli anni Ottanta, sulla scia delle aperture statunitensi, desideroso di elargire capitali e conoscenze per vedere lontana la Cina dall'Unione Sovietica. In pochi anni, grazie all'arrivo di macchinari, tecnici e manager formati giapponesi, gli imprenditori cinesi, assimilarono in tempi velocissimi le nuove conoscenze straniere. La nuova apertura al Giappone generò in sostanza una rivoluzione dell'industria, del modo di fare impresa e dell'approccio consumista in Cina. Una carta che la Cina sfoderò fu la diplomazia. Un antico retaggio di epoca imperiale. Tramite negoziati, i diplomatici cinesi cominciarono pian piano a guadagnare prestigio e capacità di persuasione, in gergo soft power, per influenzare le decisioni degli organismi internazionali. Il nome Cina ebbe nel tempo un peso sempre più grande sul piatto delle negoziazioni dei colloqui che contavano al punto tale da spingere, nel 79, gli Stati Uniti a non riconoscere più Taiwan come stato legittimo e accettare la Repubblica Popolare Cinese come unica entità statale. Un fattore determinante per la crescita cinese fu, e qui non va dimenticato, il coordinare il Partito Comunista verso un interesse economico comune. Tra i ranghi del partito cominciò a circolare il termine socialismo con caratteristiche cinesi. Una frase suggestiva, ma ambigua, che Deng utilizzò più volte e che gli permise di perseguire una politica economica accettabile con l'ideologia di partito. Si creò col tempo un sistema a doppio binario. Un sistema dove la pianificazione del governo centrale si affiancava alle regole del libero mercato. Certo, il leader cinese ribadì l'immutabilità del vecchio sistema socialista con quattro principi cardine, l'adesione alla visione socialista della Cina, la leadership del Partito Comunista e il mantenimento del pensiero marxista-leninista e di Mao Zedong. Apparenze immutate, la sostanza in realtà cambiò, e anche di tanto. Deng giustificò il suo riformismo, affermando che la Cina fosse soltanto nella fase primaria del socialismo e che pertanto fosse necessario legarsi al libero mercato, dove i prezzi erano determinate dalle fluttuazioni di domanda e offerta. In quest'ottica, Deng lasciò così spazio alle primissime imprese private, garantendo loro l'autorizzazione a superare il limite di assunzione di 7 persone che era stato imposto in precedenza. In completa opposizione alle politiche di Mao, che avevano portato un incremento sostanziale della popolazione cinese, Deng cercò invece in tutti i modi di limitare le nascite. Mao era stato un fervente fautore dell'idea di autosufficienza nazionale e come tale aveva favorito molto la procreazione del suo popolo. Come risultato, la popolazione era raddoppiata da 540 milioni a oltre 960 in appena 30 anni, dal 49 al 79. E più abitanti equivale a più bocche da sfamare, meno cibo, si sa. Deng la pensava all'opposto, convinto del fatto che per non gravare sulla gestione delle risorse agricole e sull'economia delle famiglie fosse necessario introdurre l'ormai ben nota politica del figlio unico. Al momento della sua introduzione, i cinesi di etnia Han potevano avere soltanto un figlio, preferibilmente maschio. Questa politica, fortemente criticata per le numerose violazioni dei diritti umani, fu allentata soltanto alla metà degli anni 80, permettendo la possibilità di arrivare anche a massimo dei figli. Ad oggi questa politica non sussiste più. Il governo centrale si era infatti reso conto che c'erano troppe pensioni da mantenere e troppi pochi giovani che lavoravano. Il controllo della popolazione rientrava comunque in uno dei cinque requisiti che la Cina doveva raggiungere per, e qui cito Deng, quadruplicare il reddito entro il 2020. Stabilità politica e sociale, senso di abnegazione, amministrazione efficiente, funzionari fedeli al volere del partito e necessità di aumentare la professionalità dei lavoratori. Proprio i lavoratori erano un tasto dolente. circa l'80% di loro, ovvero 795 milioni di persone, vivevano e lavoravano nelle campagne ed era proprio lì, nel settore agricolo, che le riforme di Deng dovevano attuarsi prima di tutto. Nel giro di un anno la maggior parte del paese scelse di smantellare gradualmente le grandi fattorie collettive sorte con Mao, le comuni popolari, dove, a vigile, era il termine autarchia. A quel punto Deng introdusse incentivi economici per indurre i contadini a lavorare in proprio e aumentare la produzione. Le famiglie contadine diventarono libere di lavorare la terra come meglio ritenevano e di disporre liberamente del surplus di grano e cereali. Potevano tenerselo per consumarlo oppure venderlo per proprio conto. Senza un'agricoltura stabile, senza una produzione di cereali abbondante, non c'è paese stabile che Deng. Deng puntò tutto a questo in fin dei conti. E anche con efficienza, a differenza di Mao che fece morire 20 milioni di persone. Di fame. La geografia e l'omogeneità etnica svolsero un ruolo altrettanto importante nel successo agricolo, che in un altro paese socialista, l'Unione Sovietica, non poteva essere emulato. L'URSS comprendeva infatti i territori in cui vi erano gruppi che dimostravano una certa ostilità alla supremazia russa. Pensiamo ai paesi Stan. Già, proprio quei paesi che ho interrotto nella mitica serie di quasi un anno fa. La Cina, al contrario, con l'eccezione dei territori dove oggi l'etnia Han non è maggioritaria, ad esempio il Tibet e lo Xinjiang, tenne saldamente il controllo del suo territorio per oltre due millenni senza ricoprire il ruolo di occupante straniero. E così, tra il 1978 e il 1982, la produzione agricola riuscì a crescere del 33%. Incoraggiata dai risultati positivi nelle campagne, nell'84 la Cina ampliò le riforme anche ai distretti urbani e industriali. Ai manager delle imprese statali fu data più autonomia e fu permesso loro di tenere parte dei profitti. Le riforme di Deng spinsero sulla creazione di industrie manifatturiere, ma soprattutto sulla creazione di zone economiche speciali nelle regioni potenzialmente più produttive. Per limitare la fuga dei giovani che rischiavano la vita a nuoto per raggiungere Hong Kong, le province costiere del Guangdong e del Fujian sperimentarono, prima di qualsiasi altra provincia, la cosiddetta politica della porta aperta. In parole povere, una politica volta a incoraggiare il commercio con l'estero e l'arrivo di investimenti stranieri come anche di un profondo sviluppo del sistema bancario. Deng individuò nella disparità economica e nelle differenze del tenore di vita la causa principale delle migrazioni verso Hong Kong e Taiwan. Da qui l'idea di attirare valuta straniera con cui pagarsi le tecnologie occidentali e successivamente sottoscrivere progetti per costruire fabbriche e aziende con cui potersi fabbricare direttamente in casa quelle stesse tecnologie occidentali. Nel 1980 il governo selezionò le città di Shenzhen, Tzuai, Shantue e Shaman come prime zone economiche speciali. La scelta fu prettamente strategica. Tzuai era vicino a Macao, Shaman di fronte a Taiwan, mentre appena oltre il confine con Hong Kong sorgevano Shantue e Shenzhen. Una quinta zona, l'isola di Hainan, a largo della costa meridionale, fu poi aggiunta nel corso degli anni Ottanta. L'intento principale del governo Xiaoping era convogliare i capitali stranieri, creando delle città dove esistessero dei regimi fiscali ridotti. Il mix di stipendi bassi agli operai e burocrazia semplificata per aprire un'attività fece poi il resto. Se ad esempio Asdrubale, impegnato nel suo business di claim, avessi scelto di spostare l'attività in Cina, dove la manodopera costava la metà che in Occidente, diamo caso a Shantue, più la sua azienda operava in città, meno tasse avrebbe pagato. Il primo anno di permanenza gli sarebbe valso una riduzione del 15% delle tasse, il terzo e il quarto anno addirittura alla metà. In queste zone speciali, tra il 79 e l'82, furono siglati quasi mille contratti con investitori stranieri per un volume di 6 mila miliardi di dollari. Fu un grande successo. In pochi anni, grattacieli, ville e auto di lusso cominciarono a modellare il paesaggio di metropoli come Shenzhen. Shenzhen nel 1979 conteggiava circa 20.000 abitanti e nei due decenni successivi avrebbe registrato un'espansione di 10 milioni e un aumento delle esportazioni del 238% nell'arco di 12 anni. La crescita in termini di pile della città più volte toccata il 40% e oggi è considerata come diretta competitor della Silicon Valley statunitense. Sulla scia di questi risultati, nell'aprile 1984, altre 14 città costiere, da Dailan nel nord-est fino a Beihai, vennero aperte per accogliere nuovi investimenti stranieri. Questo incrementò tantissimo le espansioni commerciali cinesi nel sud-est asiatico e nelle rotte pacifiche con gli Stati Uniti. Per la Cina, i costi del trasporto marittimo erano meno onerosi e più rapidi del trasporto via terra, il che facilitò le cose rispetto ad esempio ad un paese come l'Unione Sovietica, che era sempre più chiusa e isolata. Quando Deng visitò il Giappone nell'ottobre del 78 scherzò sul fatto che si fosse recato in quel paese alla ricerca della pozione magica per modernizzare la Cina. La pozione magica per il decollo economico cinese in realtà era Hong Kong. Circa i due terzi degli investimenti in Cina tra il 79 e il 95 provenivano da questa città, la Porta Meridionale. Una volta che Deng permise al Guangdong di aprire le sue porte, Hong Kong divenne una fonte inesauribile di capitali ed investimenti, una città dinamica, aperta alle conoscenze del mondo esterno. La colonia britannica, alla fine degli anni 70, offrì alla Cina qualcosa di cui l'Unione Sovietica era gravemente carente, un tesoro di imprenditori perfettamente informati sugli ultimi sviluppi in occidente. In due o tre anni, prima che i rapporti con la ex colonia britannica si aggravassero nuovamente, il lavoro a basso costo disponibile nel Guangdong stimolò gli imprenditori di Hong Kong, ma anche Taiwan, a prelevare letteralmente dal giorno alla notte le attrezzature e stabilirle nella Cina comunista. Il volto produttivo del delta del fiume delle perle, esteso dal Guangzhou a Hong Kong, tramutò radicalmente. L'arrivo di investimenti stranieri tramite nuove aziende contribuì a erodere l'economia pianificata di stampo socialista ed a crescere invece l'economia di mercato. I cambiamenti si fecero sentire soprattutto sulla società. La povertà assoluta cominciò a retrocedere per la prima volta, con 400 milioni di contadini che videro il loro tenore di vita migliorare notevolmente. E ad aumentare non fu solo la classe media, ma anche quella imprenditoriale. Il Partito comunista reagì prontamente a questi cambiamenti sociali, inglobando la nuova elite imprenditoriale nella sua struttura di potere. Far ciò permise al PCC di stabilizzare la sua presa sul potere, ottenendo nuovi profitti inaspettati. Il Partito si occupò di tenere sotto controllo l'espansione dei mercati, vincolandoli ai propri scopi e salvaguardando gli obiettivi della politica cinese rispetto a quelli delle imprese private. Nel frattempo, l'allora segretario del Partito Comunista, Zhao Ziyang, su indicazioni di Deng, si occupò di dare ordine alla politica interna. Zhao sosteneva che l'eredità feudale cinese avesse generato gravissimi problemi di potere. Un potere, eccessivamente concentrato, ma soprattutto, che avesse generato burocratismo inutile, come anche nepotismo e feudalismi di vario tipo, che rendevano lenta l'amministrazione pubblica. Per porre rimedio a questi difetti, Zhao impose la separazione di partito e governo, delegò il potere statale ad autorità di livello inferiore, rafforzò il sistema giuridico socialista e snellì la burocrazia. L'obiettivo era delegare, delegare diffondendo potere. Lo stesso fu applicato alle aziende statali, alle quali fu concessa maggiore autonomia decisionale. Zhao non era un sostenitore del liberalismo occidentale. Come Deng, anche lui criticava la democrazia borghese e la separazione dei poteri. Zheng, di riflesso Deng, era più che altro un sostenitore del neo-autoritarismo, una dottrina bisognosa di una leadership forte, ma soprattutto leale al nuovo processo di modernizzazione. E infatti Deng ebbe una cura meticolosa nel selezionare rappresentanti adatti per coprire posizioni di vertice e nel contribuire anche al progresso della nazione, e nel togliere di mezzo quelli poco sicuri. L'innovazione di Deng fece inevitabilmente sì che alcuni cinesi, specialmente gli studenti, si aspettassero più libertà sociale, una maggiore partecipazione alla vita politica. Lo dimostravano movimenti come il muro della democrazia, quando durante la primavera di Pechino nel 1977 gli abitanti della città furono sorpresi nel leggere manifesti nei quali svettavano in dettaglio le sofferenze causate dalla rivoluzione di Mao e che intimavano al PCC di imparare dagli errori del passato. La cosa durò poco, perché già nel marzo del 79 i leader del muro della democrazia furono tutti arrestati e processati. Per dirla con le parole di Deng, la ricreazione era finita. La messa in discussione della tenuta democratica era ancora un tabù. In tal senso il partito comunista di Deng non si differenziò poi tanto da quello di Mao. Le cose presero tuttavia una piega inaspettata alla fine degli anni Ottanta, quando l'economia cinese conobbe una battuta d'arresto improvvisa. Le riforme del settore monetario e la deregolamentazione dei prezzi, più allineate all'economia globale non più sotto stringente controllo del governo centrale, innescarono una crisi inflazionistica che colpì tutta la società cinese, che iniziò a fare scorte di cibo, temendo di non potersi più permettere i beni di prima necessità con un normale stipendio. Il contraccolpo economico scatenò una campagna antiriformista, una campagna che criticava l'inquinamento spirituale che, secondo i più conservatori tra i comunisti cinesi, stava macchiando la nazione con il germe del capitalismo. Questo atteggiamento eminò seriamente il programma di riforme di Deng e spaventò l'arrivo di nuovi investitori stranieri. L'inflazione dello yuan, l'aumento dei prezzi, l'incremento della criminalità e della corruzione suscitarono tutti una grande insoddisfazione popolare e contribuirono alle proteste che di lì a poco sarebbero scoppiate nell'89. A poco a poco però le manifestazioni a Pechino si trasformarono in un movimento politico spontaneo che si guadagnò la simpatia e il sostegno di molti abitanti. Quando 100.000 studenti scesero in piazza il 27 aprile 1989, il problema rappresentava ormai una sfida senza precedenti per Deng. La legge marziale si dimostrò inefficace e la capitale rischiava di finire fuori controllo. Fosse aumentato il numero di lavoratori e studenti, era chiaro che Pechino sarebbe stata molto presto paralizzata. Il comitato centrale del partito, anche in previsione dell'imminente visita di Gorbachev, scelse di liberare la piazza con l'uso della forza. Lo shock dei disordini di piazza Tinanmen, con centinaia di morti e migliaia di feriti, causò indignazione dentro e fuori la Cina, macchiò la reputazione di Deng e ne incrinò i rapporti con il governo statunitense. Ufficialmente la Cina tentò di rimuovere dalla memoria collettiva questo evento. In Cina oggi è ad esempio impossibile cercare su internet qualsiasi termine o parola che sia legata ai fatti di piazza Tinanmen. Per Deng non c'erano stati compromessi. Deng aveva cercato di evitare alla Cina quello che all'epoca stava avvenendo in Europa orientale, dalla Romania all'Ungheria, dove i leader politici venivano scalzati dalle richieste della popolazione. L'Unione Sovietica andò in frantumi nel mentre che la Cina registrava una crescita media del 10%. Gorbachev commise l'errore di trasformare bruscamente l'economia in economia di mercato, un errore che generò un tracollo dell'intero sistema economico russo. La Cina di Deng si era mossa con cautela, a piccoli passi, prendendosi tempo per rendere flessibile la sua economia con esperimenti e idee straniere. Con Deng al timone, il popolo cinese riuscì ad ingoiare il proprio orgoglio e ad ammettere la propria arretratezza, continuando però ad imparare, in maniera furba, quanto più possibile dal mondo intero. La rivolta di piazza Tinanmen fu un monito per la classe dirigente cinese. Senza crescita economica non c'era stabilità politica e senza stabilità politica non ci sarebbe mai stata una Cina tra le grandi potenze. Questo sarebbe stato l'assunto di base che avrebbe spinto i cinesi ad accantonare l'ideologia maoista ed entrare, dopo lunghe trattative, nel 2002 nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'antro del capitalismo, come alcuni riportavano. Fu una svolta per l'economia cinese. L'ingresso nell'OMC avrebbe messo la parola fine a qualunque ipotesi di introdurre barriere doganali ai prodotti cinesi, giudicati fortemente concorrenziali grazie al basso costo dovuto ai salari ridotti e all'assenza di garanzia per i lavoratori. Dal 2002, in appena 10 anni, la Cina sarebbe diventata il primo paese esportatore del mondo e, oggigiorno, la seconda economia del mondo con una crescita che, ben prima del 2030, la porterà ad essere superiore a quella americana. Nel 2018 i miliardari cinesi erano 596 a fronte dei 537 americani. Certo, numeri demografici ben diversi, ma questa è un'altra storia. Se c'è un leader a cui attribuire tutto ciò e a cui buona parte dei cinesi esprime ancora oggi un certo riconoscimento per i miglioramenti nella loro vita, è proprio Deng, il vero padre della nazione moderna cinese. Deng rifugì dal culto della personalità di Mao, che si paragonava ai grandi imperatori. Mao, nonostante avesse distrutto il suo paese, era stato imbalsamato e messo in mostro in un museo di Pechino. Quando invece Deng morì a 92 anni nel 1997, le sue ceneri sarebbero state sparse in mare come un qualsiasi figlio del popolo cinese. Un grazie a tutti per l'ascolto, il video è stato abbastanza lungo ma non poteva andare diversamente. Nei prossimi giorni sarò a Ivrea per registrare un video su Adriano Olivetti, un video che in molti aspettavano da moltissimo tempo e che spero sinceramente di riuscire a pubblicare a metà mese. Il video su Olivetti sarà finanziato anche grazie al supporto di tutti coloro che stanno sostenendo economicamente il canale, Patreon, YouTube, PayPal. Tutto questo permette a questo progetto di tenersi in piedi e talvolta uscire anche da questa stanza per esplorare un pochino il mondo. Un caro saluto a tutti per Aspera ad Astra.